Ok, ormai l'abbiamo capito tutti. La Formula 1 2012 è una roulette, non ci si capisce più nulla. Le gomme cambiano ogni tre secondi e come visto in Canada, quando crollano, crollano. Fatto sta che anche in quel di Montreal, col settimo vincitore su sette gare, è stato infranto l'ennesimo record della storia di questo sport. A ben vedere però, non è tanto la vittoria di Hamilton a sorprendere, anzi, lui è uno dei piloti migliori, ha un'ottima macchina e sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve è sempre andato forte. Quindi, tutto sommato, stavolta siamo nella logica dei pronostici della vigilia. Ma che dire del secondo e terzo posto di Grosjean con la Lotus e Perez con la Sauber? Questo è davvero fuori da ogni logica, eppure è accaduto. Ma come sarebbe? Hamilton vince e Button? Niente, non pervenuto. Le Mercedes? Nein! Raikkonen? Chiamate chi l'ha visto. E le Red Bull? Neanche quelle sul podio? Ma non aveva fatto la Paul Vettel? Che dire poi di Alonso? Nada de nada, ma non è tutta colpa sua. Per carità cristiana, preferiamo non infierire, ma certo che una strategia così azzeccata erano anni che non si vedeva. Vabbè, facile ironia col senno di poi, direte voi, ma il fatto è che i punti persi di un secondo posto quasi sicuro, diventato alla fine un quinto, potrebbero pesare molto a fine stagione. Per il momento non resta che congratularsi con Hamilton, che con una gara arrembante non solo si è portato a casa la vittoria, ma è anche diventato l'ennesimo nuovo leader del Mondiale. Malgrado ciò, il pilota caraibico oggi non è affatto certo del suo futuro e udite, udite, dopo secoli alla McLaren, il prossimo anno potrebbe anche cambiare aria. Il team che lo ha allevato sin da bambino, infatti, per voce del grande capo Ron Dennis, ha deciso che se Hamilton vorrà restare in McLaren il prossimo anno, dovrà prepararsi a un ingaggio probabilmente inferiore. Il suo contratto, infatti, scade a fine anno e un rinnovo alle stesse condizioni è giudicato impossibile. La situazione economica odierna, d'altronde, non è quella di quando sono state offerte certe cifre, stimate oggi intorno ai 17 milioni di euro. E in più, oggi non c'è più la Mercedes a supportare certe operazioni economiche del team di walking. Insomma, la crisi se la beccherà anche il povero, si fa per dire, Hamilton, che per il momento si gode comunque la sua leadership per i date. Ecco, forse la chiave per capire qualcosa di questo intricato romanzo giallo che è diventata la Formula 1 è proprio la classifica, e non solo quella piloti. Se chi vincerà alla fine resta un'incognita assoluta, sta cominciando a diventare chiaro chi non vincerà. Tra i top team, tre nomi in primis, Button, Massa e Schumacher. Il primo si è perso per strada dopo un ottimo inizio, mentre gli altri due non sono nemmeno mai entrati in lizza, pur con due vetture con le quali i compagni di team sono riusciti a vincere e a fare punti pesanti. Se la classifica lascia ampi margini di recupero sia a Rosberg che a Raikkonen, rispettivamente al quinto e sesto posto in graduatoria, la sensazione è che sarà difficile vederli acciuffare il titolo a fine stagione. Il buon Nico ce la mette tutta, ma la Mercedes non sembra aiutarlo abbastanza, mentre Raikkonen, oltre a finire quasi sempre dietro al compagno Grosjean nelle prove, comincia a farlo con costanza preoccupante anche in gara. Andando per sottrazione, restano dunque i due Red Bull, Vettel e Webber, rispettivamente terzo e quarto, e poi naturalmente Alonso e Hamilton. Verosimilmente, sarà uno di questi quattro il campione del mondo 2012, ma visto come vanno le cose, ci aspettiamo delle repentine smentite a ogni gran premio. In effetti, scorrendo la classifica costruttori, qualcosa non quadra. Se il primo e secondo posto di Red Bull e McLaren sembra del tutto logico, Che ci fa al terzo posto la Lotus, se non c'è un suo pilota a giocarsi il mondiale, mentre la Ferrari è solo al quarto? Strani scherzi di un mondiale sempre più pazzo, in cui la variabile gomma sta giocando un ruolo sempre più importante, forse bisognerebbe dire troppo importante. Così è se vi pare, signori. E allora non resta che goderci questa folle roulette. Le je son fait, rien ne va plus, e vediamo che numero esce stavolta. Sarà mica quello di Raikkonen? Manca solo lui? O magari Massa, perché no? O arriverà l'ennesimo outsider. Lo scopriremo solo a Valencia, dove si disputerà il prossimo gran premio.